a loro volta in modo speciale anche per quanto riguarda gli indennizi, per le ragioni che ci siamo detti mille volte. Lei ora rimanda ad un principio di carattere generale e questo contraddice, lo ripeto, quanto avevate detto voi stessi nell'ultimo mese, rispondendo anche per iscritto e in questo modo anche rafforzando speranze in quegli obbligazionisti che avevano ritenuto, diciamo, che finalmente fosse prevalso un po' di buonsenso e prevalesse il principio che, dato che 18,6 è evidentemente una valutazione molto bassa per quei crediti deteriorati e che quei crediti deteriorati appartenevano in qualche modo agli azionisti delle banche, che ora non lo sono più perché sono stati azzerati, e anche agli obbligazionisti senior che avevano prestato denaro a quelle banche, voi avete creato loro un danno per legge e per legge vi rifiutate di risarcirli. Questo, dal mio punto di vista, è piuttosto grave. Vi inviterei, almeno in futuro, ad evitare dichiarazioni pubbliche che lasciano nascere speranze che poi non siete in grado di soddisfare. Grazie. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione numero 320 dei deputati guidesi ed altri concernenti intendimenti del Governo in merito all'ipotesi di una manovra correttiva anche con riferimento all'eventuale revisione dell'Istituto della Reversibilità. Il deputato guidesi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione a un minuto. Grazie Presidente. Signor Ministro, è un po' il giallo dell'ultima settimana, diremmo, una delle tante questioni sulle quali si discute in materia economica, cioè l'esigenza o meno da parte del Governo di fare una manovra correttiva ai conti pubblici. Questo perché non sono stati raggiunti, come ben sappiamo, gli obiettivi di crescita che erano stati prefissi dal Governo e c'è una posizione non chiara da parte del Governo stesso. Lei ha due viceministri, uno che esclude totalmente la possibilità di una manovra correttiva al Vice Ministro Morando e l'altro che non la esclude per niente il Vice Ministro Zanetti. Per cui siamo a chiederle la posizione ufficiale del Governo e soprattutto se nel caso in cui serva questa manovra correttiva come la farete e se verrà toccato come voci dicono.